Buongiorno, bentrovati. Mattino 6 di sabato 1 agosto 2015, primo giorno del mese, consueta la segna stampa, l'ultima di questa settimana. Apriamo con il Santo del Giorno, che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica, un santo famoso, Santo Alfonso de Liguori, di origini partenopee. Nacque il 27 settembre del 1696 a Napoli dalla nobile famiglia de Liguori, ricevette dai suoi buoni genitori un'indicazione santa ed energica, a cui il piccolo Alfonso non mancò di corrispondere, conservando per tutta la vita una predilezione speciale di un vivo sentimento di riconoscenza verso sua madre. Con uno studio accurato di indefesso ottenne la laurea di avvocato a soli 16 anni, dopo aver esercitato con brillante successo la sua professione per molti anni, per un errore commesso involontariamente nel trattare una causa in tribunale, rimase talmente scosso che decise di abbandonare il mondo per seguire la voce di Dio, che lo chiamava al sacerdosio. Tale cambiamento non era facile, numerose difficoltà gli si pararono davanti, era nobile di ottime qualità, abile nella professione, amava con grande affetto la sua famiglia. Divenuto sacerdote, si esercitò nella predicazione popolare, nell'insegnamento del catechismo, fu autore di molteplici opere letterarie, teologiche e di celebri melodie natalizie, tra cui la famosissima Tu scendi dalle stelle. Nel 1762 a 66 anni fu eletto vescovo di Sant'Agata dei Goti. esercitò l'Episcopato con grande zelo. Ebbe a sopportare poi, con il passare degli anni, terribili prove anche nella vecchiaia. Morì il primo agosto del 1787, alla veneranda età di 91 anni. Illustre per virtù e miracoli il sommo pontefice Gregorio XVI lo annoverò nel catalogo dei Santi e Pio IX lo dichiarò dottore della Chiesa Universale Sant'Alfonso dei Liguori. Allora apriamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del centro edizione di Pescara per vedere insieme quali sono i titoli della prima pagina, i titoli principali di questa edizione. Si è parlato tanto nei giorni scorsi della notte di festa per lo shopping e questa notte a Pescara c'è stata proprio una notte di festa. Ecco qui la prima pagina del centro, notte di festa, shopping e traffico, Pescara un fiume di gente lungo le strade e nei negozi del centro. Dopo la notte bianca un'altra notte di festa anche per gli esercenti che sono rimasti aperti che hanno potuto sicuramente fare affari. Poi la fotonotizia, una bella notizia che di questi tempi è merce rara perché nel comodino gettato via trovano 7 mila euro. La sorpresa è l'onestà di due operai di Attiva che hanno riconsegnato questa somma ai dirigenti di Attiva che poi si sono rivolte alle forze dell'ordine. E poi nelle cronache l'affare da 42 milioni, parliamo dell'inchiesta sulla City, nuova sede regionale, ispezioni della Polizia e poi malato senza ascensore chiuso in casa da mesi, SOS di questo cinquantenne al comune di Pescara. E poi Pescara Calcio, presentate ieri sera proprio in occasione della notte di festa dello shopping, le nuove maglie, vedete nella foto le tre maglie del Pescara, quella bianca azzurra classica, quella blu con risvolti bianca azzurri che riporta alla mente il Pescara degli anni 70 ed 80, vedete maglia indossata da Bruno Nobili e la maglia rossa, la terza maglia che sostituisce quella verde che è indossata in questo caso, come vedete nella foto, dal team manager della formazione bianca azzurra, Andrea Gessa. Allora, lasciamo l'edizione di Pescara del centro per andare a vedere i titoli dell'edizione di Chieti del quotidiano d'Abruzzo, per vedere in questo caso anche in questo caso quali sono i titoli principali che sono stati, che riguardano la prima pagina, in questo caso parliamo di un titolo che riguarda la cronaca che arriva da Casoli, villa bruciata al rivenditore d'auto, Casoli, rogo nella notte il titolare si trova in Sicilia, indagini sul dolo e poi la moda dei matrimoni sulla spiaggia, coppia inglese, vedete nella foto di centro pagina si sposa sul trabocco, le cronache, università, compensi sul web alto là del garante, poi un incidente a Torrevecchia a Teatina cade dalle scale di casa, una donna di 52 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara e poi paura a Vasto in Corso Mazzini esplode bomba carta, danni all'emporio siamo al centro, all'edizione di Teramo del quotidiano il centro, poi chiuderemo la nostra carrellata di prime pagine per quanto riguarda il quotidiano d'Abruzzo con l'edizione di L'Aquila Avezzano Surmona vediamo l'edizione di Teramo, anche in questo caso la prima pagina che apre con una notizia di cronaca sbalzati dal furgone appena rubato, Roseto in due cercano di bloccare il radro che non si ferma e sono rimasti feriti e poi vedete la notizia di centro pagina che ovviamente tratta delle richieste, dei deferimenti del procuratore Palazzi che chiede la serie D per il Teramo Campitelli, presidente risponde e dice faremo la serie B poi le cronache a Teramo, turista in un residence muore di legionella, controlli della ASL e poi sempre a Teramo, famiglie con disabili tagliata l'assistenza e a Colonnella, centrale a Biomasse arriva un altro no e chiudiamo come dicevamo con l'edizione di L'Aquila Avezzano Surmona del centro, tra qualche istante la vedremo inquadrata e poi passeremo alla prima pagina del messaggero e andare a vedere dunque i titoli e le pagine e le notizie di respiro nazionale dei nostri quotidiani come detto edizione di L'Aquila Avezzano Surmona del centro mazzette indagato assicuratore L'Aquila perquisizioni a raffico dopo i cinque arresti ai domiciliari che sono stati confermati poi vedete centro pagina ancora una notizia che riguarda le richieste del procuratore Palazzi perché non c'è solo il Teramo ma anche l'Aquila che è stata deferita per responsabilità oggettiva e vedete nella foto l'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Ercole Di Nicola e poi nelle cronache a San Marco di Preturo a Rogo Doloso sentiti alcuni testimoni e poi ad Avezzano il dramma minaccia la mamma per comprare il vino e poi l'inchiesta di Roma delle ultime ore ci sono anche degli imprenditori di origine abruzzesi coinvolti e Taffo è stato incastrato come leggiamo in questo articolo del centro dalle intercettazioni allora possiamo tornare anzi in questo caso passare al messaggero per andare a vedere i titoli della prima pagina del quotidiano di Roma poi ovviamente andremo nel dettaglio a leggere le pagine interne nella seconda parte vedremo anche l'inserto Abruzzo prima pagina del messaggero non siamo passacarte dei PM l'affondo di Renzi dopo il nuovo arresto di Azzolini poteva esserci Fumus Persecutionis dice il Premier alta tensione tra i democratici la minoranza Premier Logorato la replica basta polemiche in aula e poi una notizia che riguarda l'attenzione a Nablus in Cisgiordania Molotov sui campi palestinesi Muore Bimbo Bufera su Israele e poi dal notaio per i miniacquisti fondi pensione via la portabilità questa notizia che è inserita nel nuovo disegno di legge e che riguarda i fondi pensione e poi dati Istat cresce la disoccupazione che arriva al 12,7% la metà dei giovani è senza lavoro e poi le intercettazioni Premier Adinolfi e caso Crocetta doppia inchiesta e poi si parla di Rai primo sì alla riforma modello BBC il via libera del Senato andiamo a vedere le pagine interne del messaggero pagina 2 si parla del caso Azzolini parlamentare dell'NCD Renzi il Senato non è passacarte delle procure dura replica le polemiche anche sul no all'arresto votare guardando documenti segno di maturità e ai ribelli del Partito Democratico dice basta caos in aula e la sinistra Matteo ormai è logorato ma Orlando avverte siete isolati dunque polemica tutta interna al Partito Democratico pagina 3 Premier Adinolfi e caso espresso doppia inchiesta sul giallo ascolti indagine penale a Napoli su cui passò le carte delle intercettazioni omissate con il generale della Guardia di Finanza e sui presunti colloqui di Crocetta governatore della Sicilia pubblicati da un settimanale e fascicoli anche in Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura proseguiamo pagina 4 Rai primo sia la riforma sarà una tv modello BBC via libera del Senato con 142 voti a favore 92 contrari la soddisfazione di Palazzo Chici martedì le nuove nomine pagina 5 il Premier CDA con Berlusconi ma la vera sfida è sul Senato Renzi ridisegna i vertici della tv per essere pronto in caso di urne anticipate la partita è con i dissidenti del Partito Democratico o c'è la grande riforma o si torna a votare poi vedete il Totonomi per chi sarà il nuovo amministratore delegato della Rai ci sono tanti papabili a rivestire questo importante incarico Viale Mazzini tre anni di risparmi ma resta troppo potere ai partiti pagina 7 il lavoro non riparte disoccupati al 12,7% a giugno 22.000 occupati in meno rispetto a maggio per la disoccupazione giovanile e nuovo record 44,2% questi dati Istat il dato influenzato dall'aumento degli inattivi 131.000 il Premier c'è molto da fare ma il bilancio resta positivo e a proposito di dati Istat inflazione stabile a luglio più 0,2% e poi si parla di assicurazioni sconti RC Auto con la scatola nera le compagnie obbligate a pubblicare sui rispettivi siti tutte le offerte con i risparmi e poi a fondo pagina statali la riforma un passo dall'ok corte dei conti allarme per le province pagina 9 c'è l'intervista a Carlo Cottarelli che dice ridurre la spesa non basta tariffe più alte nei trasporti l'ex commissario alla spending review dice i prezzi dei servizi devono coprire i costi sulla crisi greca dice per il debito di Atene praticabile una massiccia ristrutturazione poi in basso Grecia prime divergenze nel negoziato con i creditori a centro pagina invece fisco si alla certezza del diritto siamo a pagina 11 piccole compravendite torna il notaio abbiamo visto questa notizia anche nella prima pagina del messaggero salta l'articolo del disegno di legge concorrenza che dava agli avvocati la possibilità di autenticare gli atti sotto i 100.000 euro la norma riguardava gli immobili non ad uso abitativo viene cancellata anche la portabilità dei fondi pensione e poi sul web palazzi terreni e foreste il patrimonio statale vale 59 miliardi di euro ci sono tante tante proprietà statali che potrebbero e che saranno messe in vendita tutti i cittadini potranno accedere alla banca dati e consultare liberamente il catalogo pagina 12 politica internazionale bimbo palestinese ucciso dagli estremistri israele nella bufera bruciato vivo da una molotov lanciata su una casa in Cisdordania scritta in ebraico sui muri la condanna del premier israeliano Netanyahu dice sono terroristi e poi il premier visita i feriti provo sgomento e orrore l'ira di Hamas ora ogni obiettivo è legittimo e dunque tensione nei territori al confine tra Palestina e Israele poi vedete in basso Ebola funziona al 100% il vaccino sperimentato in Guinea una bella notizia questa Pulvirenti il medico di emergency guarito dice adesso deve arrivare alle popolazioni a rischio infezione pagina 13 ancora politica dall'estero il premier inglese Cameron shock cani contro i migranti caos l'eurotunnel il premier britannico alza il tiro situazione inaccettabile e stringe un patto con Parigi allo studio un piano che coinvolge anche l'esercito per fermare i clandestini che cercano di passare la manica e poi armi droga e pedofilia duro colpo al web oscuro e poi un giallo che arriva da Sarno in provincia di Salerno in mistero della bimba morta la piccola aveva tre anni il padre l'ha portata in ospedale ma era già senza vita è stata disposta l'autopsia e poi si parla del testamento di Oriana Fallaci testamento che è autentico un solo erede per la Fallaci e poi l'incidente precipita aereo della famiglia Bin Laden proseguiamo pagina 14 ancora notizie che arrivano dall'estero la strage delle esecuzioni Cina prima poi c'è l'Iran presentato da nessuno tocchi caino il rapporto del 2015 sulla pena di morte in 10 anni 17 paesi vi hanno rinunciato Mattarella il presidente della Repubblica che dice vita dignitosa ai condannati siamo a pagina 15 si parla di fiumicino dopo l'incendio dei giorni scorsi torna la calma ora rinforzi per il giubileo ma c'è un'altra odissea per i passeggeri la richiesta del risarcimento danni siamo alle pagine dell'economia intesa da record Bara il CDA all'inglese e dunque buone notizie per l'istituto bancario italiano e poi Banca Finat con il nuovo piano il portafoglio va a 17 miliardi proposito di società quotate in borsa rallenta autogrill corre il cargo di SEA e siamo a pagina 17 parte la privatizzazione delle poste italiane l'assemblea ha approvato il nuovo statuto che porta il consiglio da 5 a 7 membri entrano Nicodano e Palmieri il CDA mette il sigillo alla semestrale con ricavi in crescita a 16 miliardi e utile di 435 milioni a proposito poi di banche Unicredit finanziamento con la BEI da 200 milioni allora prima di passare alle pagine provinciali dei nostri giornali andiamo a vedere la cronaca regionale ripartiamo dal centro in questo caso per vedere quali sono le notizie che riguardano la nostra regione poi tra l'altro vi anticipo come sempre che tra qualche minuto avremo la consueta pagina dedicata al meteo ma prima del meteo parliamo d'Abruzzo partiamo dal centro le statistiche sui cervelloni ma davvero i nostri studenti sono più somari dei pugliesi i dati sui diplomati con lode alla maturità sono impietosi con percentuali molto più alte al sud ma il dubbio è inevitabile non sarà che più si scende in meridione più i professori sono di manica larga questa è la domanda che ci si pone in questo articolo ancora avanti protagonisti si parla di Simone Caner in questo caso accogliere i migranti il lavoro che ho scelto non faccio la carità le sue cop nel Chietino gestiscono sette centri con 340 ospiti diamo fastidio senza di noi si requisirebbero le scuole dice Caner andiamo ancora avanti si parla di nozze da favola fuga dalle chiese e dai municipi il sì ovunque purché suggestivo come dicevamo anche prima di questi tempi in voga vanno soprattutto i matrimoni sulla spiaggia i comuni aprono la possibilità di sposarsi all'aperto in spiaggia nei palazzi storici o nei castelli i sindaci incassano soldi e il ricordo del matrimonio originale è assicurato e arrivano gli stranieri all'Aquila la testimonianza delle 99 Cannelle la fontana scelta da sempre più coppie e poi vedete qui in Wonderful gli inglesi scoprono il fascino del Trabocco perché proprio nelle ultime ore è andato in scena un matrimonio anche sul Trabocco e poi vedete poste italiane utili raddoppiate poi si passa alle pagine provinciali allora andiamo a vedere ora le notizie della pagina d'Abruzzo del Messaggero poi parleremo come detto e come promesso di meteo con il nostro Giovanni De Palma per sapere quale sarà il tempo che ci attende nelle prossime ore siamo la pagina all'inserto d'Abruzzo del Messaggero la prima pagina Teramo ora difenditi il primo titolo riguarda i deferimenti del procuratore federale Stefano Palazzi responsabilità diretta oggettiva e presunta serie B a rischio per la società bianco-rossa a processo il 12 agosto oltre a Campitelli e Di Giuseppe anche Di Nicola e l'Aquila Di Nicola ex responsabile dell'area tecnica della società Rosso-Blu e poi a Pescara Maxirissa nella notte sulla riviera al Medusa si scontrano albanesi e senegalesi e poi il consigliere regionale Bracco subito il garante per l'infanzia e l'adolescenza mentre a Campo Imperatore la transumanza vive seconda pagina ad Abruzzo revoca negata dei domiciliari a Tancredi e gli altri si parla dell'inchiesta Radrazionem l'ultima parola spetta al GIP Gargarella e poi operai sfruttati non diamo loro tutti i soldi e poi si parla dell'inchiesta di Roma sulla gara d'appalto all'ospedale Sant'Andrea i due taffori ribadiscono la loro innocenza e poi l'economista Pino Mauro dice reti e distretti per dare forza alla crescita della nostra regione e poi altri titoli che riguardano la nostra regione uno in particolare ma che riprenderemo tra poco perché sono le 7.20 e dobbiamo parlare di meteo con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora Giovanni è arrivato l'atteso fresco questo questo fresco sicuramente molto piacevole dopo oltre un mese di caldo direi torrido però ci dicevi anche nei giorni scorsi che non durerà molto eh sì diciamo che non durerà molto anche se avremo un nuovo disturbo soprattutto in questo fine settimana perché se da un lato le regioni centro-meridionali sono ancora eh sotto l'influenza di una di un'area di alta pressione di matrice nord-africana eh il centro-nolle delle stante regioni centro-settentrionali in particolar modo il nord-Italia inizia ad essere interessato come si vede anche dalla dalla grafica da dei corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale ma nelle prossime ore eh la struttura di alta pressione subirà un cedimento anche eh sulla nostra regione di conseguenza giungeranno dei corpi nuvolosi a partire dalla che provenienti dal Mediterraneo occidentale che eh favoriranno un aumento della nuvolosità e anche un peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto nella seconda parte della giornata e in serata ci sarà spazio a delle precipitazioni localmente a carattere temporalesco più probabili eh sul settore occidentale e sulle zone montuose tutte le vie non te scude qualche sconfinamento anche sul vessante orientale e proprio questi corpi nuvolosi ehm daranno un po' di disturbo ehm nella giornata di domenica perché la numerosità continuerà ad essere presente sulla nostra regione anche in mattinata nella mattinata di domenica e ci sarà spazio localmente a delle precipitazioni quindi un cielo nuvoloso sulla nostra regione anche al mattino con delle precipitazioni però più probabili nell'Aquilano e sulla Martica e sulle zone montuose mentre nel corso del pomeriggio poi potranno svilupparsi con sueti annuvolamenti intensi sui rilievi che potrebbero dar luogo a dei temporali in estensione poi verso il settore orientale poi successivamente Paolo come hai già anticipato questa struttura di alta pressione tornerà a internirsi un po' del Mediterraneo della nostra penisola lo farà in maniera graduale e fino almeno fino alla giornata di giovedì dovremo fare il conto ancora una volta con un progressivo aumento delle temperature mentre fino a lunedì sera insomma le temperature resteranno su valori ancora più diciamo piuttosto gradevoli rispetto ai giorni scosti perché come hai puntualmente anticipato le temperature sono diminuite anche se a dire il vero manca la pioggia soprattutto lungo la fascia orientale della nostra regione ieri insomma ci sono state delle precipitazioni che però non hanno raggiunto la fascia costiera che non occasionalmente non piove qui in riva al mare da oltre 40 giorni insomma è una situazione questa un po' diciamo anche anomala diciamo così perché nel mese di luglio comunque anche se è caratterizzato appunto essere il mese più stabile del lato insomma c'è sempre comunque la possibilità di qualche fenomeno tutto l'opposto di quello che è accaduto l'anno scorso Paolo perché l'anno scorso fu un mese molto piovoso luglio e molto instabile quest'anno diciamo ci è voluto un po' riprendere un po' la sua tradizionale veste insomma nel mese di luglio quindi stabilità ma attenzione ripeto perché sia nel pomeriggio sera sia nella giornata di domani avremo comunque il passaggio di questi costi nuvolosi che potranno dar luogo anche delle precipitazioni sulla nostra regione Paolo Giovanni un'altra domanda che non posso non farti oggi è primo agosto una domanda come si suol dire da un milione di dollari che mese ci attende che tempo avremo almeno secondo queste previsioni che si possono fare da oggi per i prossimi 30 giorni sarà un agosto caldo sarà un agosto piovoso sarà un agosto nella norma che cosa si può dire anche se come tu hai sempre ricordato è impossibile o quasi fare previsioni a lunga scadenza esatto Paolo non è possibile sapere il tempo che farà da qui a un mese però possiamo dire che nei prossimi 5-7 giorni comunque nonostante poi la rimonta di alta pressione che porterà una nuova chiamiamola fase calda sulla nostra regione dagli ultimi aggiornamenti sembra che questa struttura di alta pressione mi siano ad avere dei cedimenti sostanziali piuttosto piuttosto insomma decisi rispetto a quanto abbiamo avuto in questi ultimi giorni quindi è probabile che verso l'inizio della seconda decade del mese di agosto ci sia un cedimento un po' più marcato di conseguenza questo potrebbe esporre la nostra regione all'arrivo di perturbazioni atlantiche proprio in prossimità del ferragosto però ripeto Paolo questo si tratta non si può andare oltre 4-6 giorni per avere una tendenza generale quindi invito tutti i telespettatori a seguire gli aggiornamenti perché ovviamente noi li parleremo quotidianamente qui su TV6 Paolo benissimo grazie grazie Giovanni ovviamente ci ritroveremo la prossima settimana per approfondire queste previsioni io ti ringrazio ti auguro una buona giornata soprattutto una buona domenica grazie Paolo ti auguro un buona settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 bene grazie a Giovanni De Palma per saperne di più gli strumenti sono sempre i soliti gli stessi abruzzometeo.org il sito diretto dal nostro Giovanni De Palma aggiornato minuto dopo minuto il caso di dire proprio per conoscere le previsioni del tempo vedete anche i live che arrivano dalle nostre province e poi la pagina Facebook di Giovanni De Palma che è uno strumento che rappresenta uno strumento ancora più importante anche per interagire con il nostro meteorologo allora sono le 7.26 prima di fermarci per qualche attimo torniamo un attimo la pagina del messaggero la seconda pagina della cronaca d'Abruzzo perché c'era un titolo di un articolo importante che riguarda il mare e l'inquinamento perché il movimento 5 stelle chiede di fare chiarezza e noi ieri abbiamo ascoltato con la nostra Francesca Romana Testi la consigliera regionale pentastellata Sara Marcozzi acqua sporca e casi di gastri interite in alcuni invece la comparsa di strane macchie rosse il caso della balneabilità pescara preoccupa cittadini e turisti e ad intervenire ora c'è il movimento 5 stelle soprattutto sui bambini perché chiaramente sono i soggetti più deboli anche se poi anche gli adulti hanno avuto alcuni problemi il movimento 5 stelle interviene a tutti i livelli quindi sia sul comune di Pescara che in regione che a livello parlamentare con una serie di azioni che sono soprattutto di indagine per così dire quindi abbiamo chiesto in regione per esempio abbiamo già depositato un'interpellanza per chiarire quali controlli sono stati fatti i monitoraggi che il decreto legislativo 116 del 2008 impone alla regione la regione ha certamente un ruolo fondamentale nella tutela del mare e delle acque e noi chiediamo insomma che il presidente D'Alfonso come dire mantenga le promesse che ha fatto in campagna elettorale e faccia il miracolo della riconciliazione delle acque dolci dei fiumi con le acque salate dei mari chiedere analisi per conoscere la reale situazione della balneabilità per evitare danni al comparto turistico all'immagine della città e soprattutto per la salute dei cittadini esattamente noi chiediamo infatti sia ai bagnanti che ai balneatori di unirsi a noi in questa battaglia per la tutela del mare per la tutela della salute dei cittadini e anche per la tutela dell'economia turistica che ci sembra abbia avuto una battuta d'arresto probabilmente anche a causa della scarsa qualità dei nostri mari queste le impressioni della consigliera Marcozzi sul problema inquinamento del nostro mare noi ci fermiamo per qualche attimo poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 che apriamo con le pagine di Pescara del centro la prima pagina è dedicata all'inchiesta sulla city polizia nell'area che piace alla regione questo è il titolo principale ispezione con foto e video dell'immobile in costruzione e il comune si tira indietro la nostra attività si è conclusa nel 2013 e poi vedete a centro pagina le reazioni l'imprenditore Sciarra dice sono deluso e amareggiato ma su questa vicenda andiamo a seguire il servizio che abbiamo realizzato ieri per il nostro Tg6 14 avvisi di garanzia e primi nomi che escono nell'inchiesta relativa alla city sede deputata ad ospitare gli uffici della regione il primo ad opporsi a questa iniziativa era stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari fondando le sue perplessità sulla spesa da sostenere per le casse pubbliche 42 milioni di euro noi non siamo contro nessuno ma riteniamo che la regione non debba acquistare quel complesso prenderlo in locazione perché c'è una norma nazionale sulla spending review che impone di razionalizzare gli spazi in eccesso noi da uno studio che abbiamo fatto abbiamo constatato che la regione ha diversi spazi in eccesso e quindi quel milione 100 mila euro che paga oggi d'affitto ogni anno secondo noi si potrebbe abbattere a 200 mila euro razionalizzando gli spazi mentre con la presa in locazione della city dovremmo pagare un milione circa un milione 800 mila euro l'anno e in più eventualmente dopo i tre anni optare per l'acquisto e l'acquisto ci costerebbe compreso IVA circa 42 milioni di euro allora noi diciamo se possiamo risparmiare i soldi e pagare solo 200 mila euro qui non si giustifica questa operazione l'inchiesta l'inchiesta ora delinea un quadro più complesso se per pettinare il punto ruotava intorno alla spesa da affrontare secondo EPM Mirvana Di Serio e Anarita Mantini il focus si sposta sul cambio di destinazione d'uso da privato a pubblico in un'area considerata sensibile poiché adiacente all'aeroporto e che da iniziale centro direzionale con parcheggio veniva trasformata in sede di uffici pubblici con un carico antropico molto superiore 14 avvisi di garanzia che hanno raggiunto imprenditori politici e dirigenti l'inchiesta è all'inizio sono stati inviati solo degli avvisi di garanzia sono degli atti dovuti ma noi riteniamo che vada fatta chiarezza che si blocchi questa operazione molto semplicemente comunque vada l'inchiesta comunque vada l'inchiesta a noi ci interessa il risolvere i problemi dei cittadini abruzzesi e pescaresi parliamo di cronaca siamo sempre sulle pagine del centro di pescara volano sedie e spranghe dopo le molestie rissa sulla riviera albanesi infastidiscono delle ragazze e vengono allontanati dai buttafuori otto denunce e tre feriti poi un arresto dei carabinieri in via lago di campo tosto l'arresto di uno spacciatore ed ecco la pagina dedicata alla notte dello shopping il centro in festa un fiume di gente in strada e nei negozi confessercenti entusiasta per la grande partecipazione domani la corsa di 5 km con il lancio di colori vedete nella foto quanta gente la notte scorsa a Pescara e poi questa storia di quest'uomo malato senza ascensore bloccato in casa da mesi Bianora 54 anni affetto da sclerosi multipla non può uscire per curarsi appello della moglie al comune non ce la faccio più a portarlo in spalla e poi case popolari 648 ammessi alla graduatoria definitiva infine a fondo pagina folla per l'ultimo saluto alla vedova a Camplone commozione ai funerali di Anna Margherita Knight titolare del bar Capris e siamo a pagina 23 la notizia che avevamo anche visto in prima pagina una bella notizia bisogna dirlo tra i rifiuti si apre un cassetto e dal mobile spuntano 7 mila euro gli operatori di attiva non credono ai loro occhi poi consegnano la busta con i contanti alla polizia il comodino gettato in strada in via del nuovo tiro a segno l'ipotesi ripulito un vecchio appartamento e poi abruzzesi nel mondo premio di Martin a imprenditori ed artisti questo l'articolo dedicato alla manifestazione di Pescara e poi in basso in 200 alla festa del club nautico siamo alla pagina di Montesilvano del centro Calvario distretto sanitario l'apertura slitta ancora l'amministrazione Maragno si era impegnata a riconsegnare l'opera alla ASL entro la fine di giugno ma il termine dei lavori viene rinviato da 4 anni e poi l'indagine Denas 30 villeggianti intossicati l'arta fa i prelievi in mare andiamo avanti ancora seconda pagina della provincia di Pescara siamo sempre a Montesilvano barattare il lavoro per pagare le tasse civiltà o schiavitù fa discutere l'opportunità offerta dal governo ai comuni via libera Montesilvano e Cappelle Pianella dice no spoltore rievoca la vita del soldato Rocco Di Matteo a Montesilvano ancora manifestazioni per la regginetta di Miss Mediterraneo mentre a Pianella officina del talento è una festa delle arti in piazza siamo ancora dalle pagine della provincia di Pescara e dell'Interland in questo caso di Pescara perché siamo in questo caso a Francavilla ris al bar feriti due turisti belgi i carabinieri indagano sul pestaggio tra due gruppi rivali scaturito forse da futili motivi a Francavilla ancora eroina nell'auto denunciati due pusher e il calendario dei controlli d'agosto con l'autovelox sempre nella cittadina Francavillese poi premio Michetti l'Abruzzo di Sobrero e l'omaggio a Memmo siamo alla pagina della provincia di Pescara dell'in in pratica dell'alta Valte Pescara e dell'area Vestina cinghiali abbattimenti selettivi anche nelle aree protette poi due incidenti stradali con feriti lievi a Popoli e per i Colomassi sgomberate nove famiglie a Carpineto della Nora il bollettino meteo convince il sindaco Rosini a firmare una nuova ordinanza e poi ferite in casa a Loreto la estraggono dalla finestra mentre a Penne stand e sbandieratori due giornati di festa medievale siamo alla pagina di Chieti del centro parliamo di università compensi messi sul web il garante dice è violazione poi stop alla fusione con Pescara non alle brutte sorprese si parla di camera di commercio di questa fusione tra i due enti camerali di Pescara e Chieti e poi a Torrevecchia Teatina cade dalle scale grave un 52enne una 52enne in questo caso si tratta di una donna trasportata in elicottero all'ospedale di Pescara ricoverata in neurochirurgia e poi a Casoli villa bruciata ad un commerciante rogo nella notte il titolare rivenditore di auto si trova attualmente in Sicilia pagina dell'Aquila del centro perquisito indagato l'assicuratore di Prospero la procura accelera dopo le 5 misure cautelari che sono state confermate dal GIP trovati e sequestrati 2.800 euro nel bagno di servizio dell'abitazione di Tancredi il sindaco Cialente dice Aquilani denunciate il malaffare poi Taffo 500 morti all'anno un milione e mezzo a noi l'inchiesta di Roma queste le intercettazioni che hanno inguaiato l'imprenditore Luciano Giustino e siamo alla pagina di Teramo del centro muore di Legionella indagine della AS l'anziano medico di Spoleto stroncato in vacanza la direttrice sanitaria Mattucci rassicura non ci sono altri casi Dams nell'ex manicomio Brucchi si muove il sindaco convocherà giorni un tavolo tecnico e poi l'inchiesta maxispaccio di cocaina ai domiciliari due fratelli e poi a Bellante il consiglio comunale sanità inadeguata in provincia chiesta una nuova programmazione con maggiori investimenti siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo ancora vedere le pagine provinciali del messaggero e poi la città prima di parlare appunto di sport tra l'altro vi anticipo che avremo un servizio del nostro Andrea Costantini proprio per fare il punto dopo i deferimenti che ci sono stati ieri da parte del procuratore Palazzi come abbiamo visto anche dai titoli delle prime pagine dei giornali ci sono state delle richieste pesanti soprattutto per il Teramo siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero Preturo torna il fuoco e caccia al piromane poi fontana luminosa riqualificazione Made in l'Aquila nuove tariffe per tasse e servizi scolastici vedete questo titolo ancora in basso Gran Sasso Institute 20 borse di studio siamo alla seconda pagina la Burgo riapre chiesto vertice a Roma il coordinatore provinciale dell'NCD Verrecchia lancia la sfida e sostiene che sarebbe il caso di riaprire subito la vertenza e poi c'è l'accordo raggiunto con le banche per ristrutturare il debito la società potrebbe riassorbire in Marsica la mano d'opera trasferita a Sulmona Trasporti Sell sollecita un incontro pubblico mentre ad Avezzano fa arrestare il fratello che chiedeva i soldi per la droga ancora ad Avezzano fuoco autorimessa con 300 rotoballe e anziani al caldo blitz dei nas poi da Sulmona metanodotto SNAM il ministero accelera mentre in quest'altro articolo a centropagina si parla dei due giorni della giostra cavalleresca d'Europa siamo alle pagine di Pescara del messaggero Maxirissa nella notte alla Medusa la riviera nord trasformata in un gigantesco ring scontro fisico tra sei avventori albanese due bottafuori senegalesi tre feriti in ospedale otto denunciati dalla polizia l'intervento della security per proteggere alcune ragazzine e poi l'arresto spaccia Ashish ad un ragazzino preso marocchino dai cento nomi e poi giovani locali contro turisti belgi calci e pugni anche a Francavilla siamo a pagina 46 una delibera spiano la strada alla city si parla dell'inchiesta che ha portato ad alcuni avvisi di garanzia il cambio di destinazione d'uso del complesso candidato ad ospitare gli uffici regionali nel mirino di polizia e procura l'ex sindaco di Pescara Mascia e l'ex assessore Antonelli indagati per aver occultato i rischi per la sicurezza dell'aeroporto e poi la cosa giusta restituiti 7 mila euro nascosti tra i rifiuti siamo a pagina 47 ancora cronaca di Pescara in questo caso si parla dell'ensemble lo spoltore ensemble punta sui volti della tv si alza e si pari sul festival estivo di spoltore tra i più longevi d'Abruzzo a Ferragosto il via la maratona di teatro e musical e poi all'armo a Carpineto della Nora torna il riscofrane nove case evacuate e poi intossicati in albergo pranzo in trasferta per gli ospiti mai più a Montesilvano siamo alla pagina di Chieti del messaggero bonifica per tutti i 15 siti inquinanti della città l'appello di SEL ora una commissione di indagine studio il PD attacca e illegittimo l'aumento dell'Atari poi TELIS i documenti i dipendenti scusate assediano il comune manifesti e incontri con sindaco e prefetto vogliono chiuderci dicono i lavoratori di questa azienda e poi rotture idriche emergenza infinite nuovi guasti l'assessore dice ancora dieci giorni di fuoco al via i primi interventi siamo alla pagina di Lanciano Vasto Ortona Fossa Cesia furto alla stazione sradicata la biglietteria la cassaforte integrata dal peso di quasi dieci quintali è stata ritrovata ad un chilometro e mezzo da Fossa Cesia incerto il bottino Ortona Forza Italia passi falsi nella gestione delle strutture a Casoli incendio a una villetta si segue la pista del Dolo e poi a Vasto anziani adescati da donne straniere siamo alle pagine di Teramo Teramo è provincia del Messaggero nel vivo il rimpasto di Giunta gli assessori caleranno a sette se le poltrone dovessero restare nove ci sarà un ulteriore taglio delle indennità e poi Parentopoli in municipio una replica Musoduro siamo a Civitella del Tronto e poi colossale truffa della benzina c'è un Teramano tra le menti di questa di questa inchiesta che ha toccato anche la provincia Teramana e poi la torre spese alle stelle per smaltire il percolato si parla della discarica il consigliere PD Gian Guido D'Alberto dice la Team il servizio è stato subappaltato a terzi andando pure contro la convenzione e siamo alla pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata il Freccia Bianca fermato dalla Polfer due agenti di scorta sul convoglio parlando con il Capotreno hanno scoperto che Giulianova non era stata inserita tra gli scali ieri però il Freccia Bianca ha fermato dopo quattro anni per la prima volta alla stazione di Giulianova noi eravamo proprio in stazione a Giulianova con le nostre telecamere abbiamo ascoltato anche il sindaco Mastromauro sicuramente soddisfatto per il ritorno della fermata del Freccia Bianca a Giulianova vediamo il servizio io direi che è una giornata storica per la provincia di Teramo e per la città capoluogo di Regione L'Aquila perché non ci dimentichiamo che lo scalo ferroviario ubicato a Giulianova è quello di riferimento di un distretto molto più ampio che è quello della provincia di Teramo e della città capoluogo L'Aquila quando quattro anni fa il 27 di novembre del 2011 Trenitalia ha decise di sopprimere le fermate del Freccia Bianca lì fu un giorno brutto nero e purtroppo lo devo sottolineare nella indifferenza del governo regionale dell'epoca io mi sono battuto insieme a una squadra che fa il composta di amministratori ma non solo di tanti operatori turistici per riportare al tavolo del confronto con Trenitalia che è una società privata i dati oggettivi devo ringraziare il governatore D'Alfonso che in questo mi ha consentito di far valere questi dati e noi abbiamo dimostrato che lo scalo ferroviario di Giulianova serve un distretto che genera quasi 3 milioni e mezzo di presenze turistiche l'anno ha 42 mila posti letto lei tenga presente che l'omologa stazione di San Benedetto del Tronto che fa riferimento al distretto di Ascoli ha molte presenze turistiche in meno e la metà dei posti letto ne ha circa 20 mila questi sono i dati oggettivi che fanno del nostro distretto il distretto turisticamente e economicamente più importante del medio adriatico se continuiamo a lavorare così ci sarà futuro anche in altre realtà il gioco di squadra è fondamentale purtroppo qualcuno ha remato contro ma quel qualcuno forse non può fare l'amministratore e ci dovrà pensare su questo elemento siamo ancora a Giulianova medico morto di Legionella non ci sono altri casi a Roseto rifiuti il porta a porta anche a Colonia spiaggia ponti di legno ciclo pedonale grandi incompiute a Martinsicuro a Pineto sorveglianza area Cerrano è stata sottoscritta la convenzione siamo arrivati poi alle pagine dello sport ma dobbiamo passare al quotidiano la città di Teramo per vedere le pagine che riguardano Teramo e province anche quelle regionali del quotidiano della città partiamo dalla prima pagina Teramo scatta il deferimento questo il titolo principale poi Legionella Killer la ASL apre l'inchiesta vediamo comunque le pagine interne partiamo dall'Abruzzo l'Aquila gli operai rumeni confermano lo sfruttamento ancora pagina 4 Dirti Soccer Teramo deferito per responsabilità diretta processo il 12 agosto siamo a pagina 7 scoperta la truffa della benzina sotto costo coinvolto pregiudicato di Martinsicuro poi si parla di sanità il comune di Bellante chiede alla ASL un riordino dei servizi di assistenza pagina 8 via l'accampamento nomadi da Villa Vomano i residenti chiedono l'intervento del comune pagina 9 nuovo bando per 400 migranti la prefettura di Teramo mette a disposizione un milione per le strutture ricettive che li ospiteranno e poi a Montorio la delegata Petrarca resterà al suo posto respinte le richieste di dimissioni siamo a pagina 10 la prima pagina che riguarda Teramo il rimpasto di Brucchi slitta a fine estate come previsto il sindaco cerca di allungare i tempi della verifica decisivo il passaggio sulla gara della Teramo Ambiente andiamo avanti pagina 11 tagli all'assistenza mamme contro la compartecipazione lunedì sitini in municipio per denunciare le spese che dovranno sostenere per i figli affetti da autismo e poi si parla di quartieri accorciati tempi per i lavori alla mega rotonda ipogea di Villa Pavone siamo a pagina 13 provincia legionella la ASL apre un'indagine interna certamente nei tubi e nei condizionatori della struttura turistica che ha ospitato il pediatra di Spoleto pagina 14 Tortoreto tra fracassoni e movida scelgo i giovani il turismo tortoretano in evoluzione ecco come cambia la visione dell'amministrazione con il sindaco Alessandra Richi e siamo a pagina 15 Val Vibrata Biomasse il tarannulla i permessi sindaco di Colonnella Leandro Pollastrelli ha vinto la sua battaglia contro Sagitta e poi l'unica parentopoli di Civitella è quella del consigliere Leandro Bracco la polemica dopo la conferenza stampa del consigliere regionale a Nereto il comitato del cimitero denuncia tutti per la variante siamo a pagina 16 Giulianova meglio un cannone che una Madonna poi il Frecciabianca fischiato alla stazione di Giulianova abbiamo visto il servizio a Mociano aliquote Tari e Tasi tra le più basse della provincia di Teramo e poi ancora Giulianova bocciata la proposta del tavolo permanente sulla sicurezza proseguiamo pagina 17 dopo tre anni via i Cassonetti da Cologna e poi se ancora Roseto rischio alluvione ripulito il canale di via Mazzini a Silvi 50 mila euro di credito sportivo per migliorare il locale stadio poi ad Atri Almirante Berlinguer patrimonio di tutti gli italiani a N stigmatizza l'insurrezione della sinistra Teramana contro l'intitolazione della via l'esponente del movimento sociale italiano ieri a tal proposito vi abbiamo proposto un servizio nel costo del nostro TG6 poi cultura restiamo ad Atri perché si apre al dialogo con la Spagna nella città ducale torna la rassegna still all peace and everyday life e poi la recensione Enzo Paci la lezione del filosofo della vita prima di passare alle altre pagine dello sport anzi è il caso di passare alle pagine dello sport avevamo già visto dalla città di Teramo gli articoli che riguardavano il deferimento del Teramo vediamo proprio gli articoli del quotidiano il centro su questa vicenda Teramo Palazzi lecito da punire ma il diavolo crede nella B la procura FIGICI chiede la responsabilità diretta del Savone del club bianco rosso la difesa è convinta di dimostrare l'estranità di Campitelli processo il 12 agosto vediamo il servizio di Andrea Costantini sono stati notificati al Teramo questa mattina i deferimenti per l'inchiesta sulla presunta combin della gara di Savona dello scorso 2 maggio come nelle previsioni il procuratore federale Stefano Palazzi cita davanti a raddisciplinare il Teramo per le responsabilità dirette e oggettiva riferibili rispettivamente al presidente Luciano Campitelli e al direttore sportivo al momento sospeso Marcello Di Giuseppe ad entrambi viene contestato l'illecito sportivo e quindi la violazione dell'articolo 7 commi 1 e 2 del codice di giustizia sportiva l'illecito sportivo viene contestato anche all'ex consulente esterno del Savona Marco Barghigiani l'ex presidente dei Liguri Aldo delle Piane l'ex tecnico di Savona e Barletta Nini Corda l'ex dirigente Aquilano Ercole Di Nicola l'ex calciatore del San Paolo Padova Davide Matteini l'ex collaboratore tecnico del Parma Giuliano Pesce contestato all'ommessa denuncia articolo 7,7 al difensore del Savona Marco Cabeccia l'altro ex consulente esterno del Savona Enrico Cenicola e l'allenatore Fabio Di Lauro contestato il divieto di scommesse per tesserati allo stesso Di Lauro e a Di Nicola al Teramo contestata anche la responsabilità presunta per fatti commessi da non tesserati con tanto di aggravante per il raggiungimento del risultato voluto e del vantaggio in classifica mentre il Savona Calcio è deferito per responsabilità diretta coinvolgimento di delle piane e oggettiva per i comportamenti di Barghigiani Cenicola e Cabeccia responsabilità oggettiva anche per Barletta L'Aquila e San Paolo Padova per le condotte rispettivamente di Corda Di Nicola e Matteini il processo sarà celebrato all'NH Hotel di Roma a partire dalle ore 9 in mezza giornata di dibattimento si giocherà dunque la partita più importante del Teramo davanti al Tribunale Sportivo visto che lo stesso giorno nel pomeriggio andranno in dibattimento gli altri filoni dell'inchiesta Dirti Soccer i prossimi giorni saranno ancora più utili alle difese per studiare in maniera compiuta gli atti sui quali pogge l'impianto accusatorio della Procura Federale che in sostanza ricalca quanto già emerso dall'informativa della Mobile di Catanzaro nella ricostruzione avallata dalla Procura della Repubblica del centro calabrese per Palazzi il presidente del Teramo Campitelli e il DS Di Giuseppe hanno dato mandato all'ex dirigente Aquilano Di Nicola di combinare la partita fallita la pista percorsa con l'intermediazione di Matteini che ha vanamente cercato di agganciare i calciatori Cabecce e Marchetti Di Nicola secondo la Procura sarebbe riuscito a corrompere dei giocatori del Savona tramite corda e barghigiani calciatori allo Stato non identificati Dele Piena avrebbe partecipato alla proposta illecita percependo dei soldi come alla combina avrebbe partecipato anche Giuliano Pesce guadagnando anche egli dei soldi le sostanziali aggiunte all'impianto accusatorio venute fuori dalla Procura sembrano essere le dichiarazioni di Corda il quale riferisce che nella cena di Biscegli e di Nicola e di Giuseppe gli illustrano come il Teramo sarebbe disposto a pagare fino a 70.000 euro per assicurarsi la vittoria e poi la contraddizione tra le versioni di Barghigiani e Cenicola il primo nell'interrogatorio di Catanzaro ha riferito di aver parlato con Di Giuseppe Campidelli sia prima che dopo la partita nei pressi dello svincolo dell'autostrada per il secondo nell'audizione in Procura Federale l'incontro prima della partita era avvenuto tra il solo Di Giuseppe e Barghigiani e che nella macchina da dove è sceso il DS Teramano forse un sub c'erano altre persone che non sono scese elementi forti provatori contro il Teramo e Campidelli non sembrano esserci ma la sommarietà della giustizia sportiva e l'onere della prova invertito rendono il confronto in dibattimento duro ma giocabile per il club bianco-rosso che si affida alle capacità dell'avvocato Edoardo Chiacchio per salvare una Serie B strameritata sul rettangolo verde Parliamo dell'Aquila penalizzazione in vista inizia il calvario rosso-blu il club risponderà di responsabilità oggettiva per i presunti illeciti di Di Nicola sono 22 i capi di imputazione il presidente Chiodi dice aspettiamo le mosse dei nostri legali torniamo indietro per vedere i titoli che riguardano Pescara e Lanciano in Pescara al Gran Valzer delle Punte presentate ieri le maglie Mandragora da Pogba alla voglia di Serie A e poi Lanciano Trest saluta la Virtus Lanciano e se ne va al Novara vediamo brevissimamente anche i titoli del messaggero sul Teramo è proprio dura vedete Palazzi deferisce responsabilità diretta per i biancorossi abbiamo visto l'ampio ed esaustivo servizio di Andrea Costantini poi l'Aquila Chiodi noi andiamo avanti e non molliamo Boldora Lanciano per giocare e crescere poi il Pescara Oddo io ci credo l'allenatore per me siamo da prima fascia sì ci sono squadre molto attrezzate ma i campionati non si vincono con i nomi poi calcio a 5 per i ragazzi di Colini vacanze finite e noi abbiamo terminato questo appuntamento con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito e vi ricordo il primo appuntamento informativo con il TG6 come sempre quest'oggi alle 14 buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti